Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video. Ormai le scope elettriche sono un must, credo che non ci sia a casa che non ne abbia una e proprio per questo sempre più produttori si interessano a questo mercato ed è sempre per questo motivo che sono sempre più interessato a provarne quanto è più possibile in modo da portarvi le mie impressioni. Prima di passare al video vi dico che questo video è sponsorizzato grazie a CDK Deals in particolare vi faccio vedere come questo sito possa offrire la possibilità di acquistare diverse chiavi tra cui quella di Windows 10 Pro OM con uno sconto molto corposo. Parliamo infatti del 25% di sconto usando il codice TR25 che vedete qui in sovra in pressione. Acquistare la chiave di Windows 10 è davvero molto facile, una volta inserito il codice il prezzo è di soli 13,56€ una volta riscattata la chiave per attivarla è sufficiente recarsi sulle impostazioni e seguire la procedura per attivare Windows che vedete qui a video. Per maggiori informazioni vi lascio tutti i link qui sotto nella descrizione e ringrazio ancora una volta lo sponsor. Oggi parliamo di un brand che in realtà non abbiamo poi tanto sentito nominare perché è abbastanza nuovo. Si chiama Ultenic, si contraddistingue con questa colorazione verde personalmente mi piace tantissimo e ha in gamma due modelli l'U10 che si posiziona in una fascia un po' più bassa e l'U11 che si posiziona vicino alla fascia media. Chi di voi mi segue da un po' si ricorderà di queste forme. Sì, perché sostanzialmente è un prodotto che ricorda molto da vicino e anzi è praticamente identico per molti aspetti il ProScenic P10 Pro. Se vi siete persi il video in cui parlo degli OEM ve lo lascio qui sopra in alto nelle schede perché è interessante e vi aiuta anche a capire un po' come si comporta il mercato quando c'è un aumento repentino della richiesta. Questo costringe magari molti produttori a presentare i loro prodotti ma sono produttori che non hanno le forze di fare sviluppo ricerca da soli. Quindi cosa fanno? Vanno a comprare i pezzi, mettono il brand e lo ripropongono sul mercato. Magari con qualche modifica o con qualche piccola variante. Vediamo quali sono le varianti in questo Ultenic U11. Ultenic che tra l'altro produce anche due aspirapolvere robot su cui spero di poter mettere mano in modo da portarvi anche la recensione perché sembrano piuttosto interessanti. Ma prima di continuare con il video e con la recensione completa vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche. È l'unico vero modo che avete per supportarmi in modo che io possa portarvi contenuti sempre di maggiore qualità. Dopodiché vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio canale Telegram dedicato alle offerte. Il link lo trovate sempre qui sotto nella descrizione. Siamo oltre 2000, facciamolo crescere in modo che posso, come già fatto, portarvi anche delle offerte dedicate a voi. Ultenic U11. Cosa c'è all'interno della confezione? Beh, ovviamente il corpo motore, quello principale, il tubo di prolunga realizzato in metallo, la spazzola principale che analizziamo tra un attimo è questa che vedete accanto a me, che altro che non è che una docking station che consente di ricaricare tramite due contatti l'alimentatore fornito in confezione la scopa elettrica e di riporre alcuni accessori e di sistemare gli accessori in maniera ordinata. Una piccola aggiunta che è ereditata ovviamente dalla base da pavimento che abbiamo visto per la prima volta nel Dyson V11 Absolute Extra Pro, il link lo lascio qui sopra e l'è in alto alla vostra destra, ovviamente è un po' più economico ma è comunque abbastanza stabile. Occhio però a non sovraccaricarlo perché la base è comunque in plastica e non ha tantissimo peso, vedete come io riesco a spostarlo praticamente senza porre alcuna forza. Cosa c'è di più all'interno della confezione? Una spazzolina piccola motorizzata con setole dure che consente di pulire tappezzerie e materassi, altre due spazzoline rispettivamente per gli angoli, quindi realizzata in plastica e poi l'ultima per pulire le tende. Queste setole fanno sì che voi potete aspirare senza che la tenda vada a intrufolarsi all'interno e venga risucchiata dall'aspirapolvere. Come è fatto l'aspirapolvere? Beh, ripeto, è molto molto simile al ProScenic P10. Quali sono le caratteristiche peculiari? Beh, la forma ricorda tantissimo quella del Dyson V11 quindi il serbatoio è allineato con il motore motore che, secondo le dichiarazioni scritte su Amazon arriva a 25.000 Pascal. Ora, siccome non ho notato grosse differenze né di aspirazione né per quanto riguarda il rumore generato io credo fortemente che questi numeri debbano un po' essere presi con le pinze perché questi produttori poi tendono un po' a pompare i numeri per risultare un po' più allettanti. Devo dire che però la potenza di aspirazione è molto simile a quella del ProScenic P10 Pro quindi sovrapponibile nella maggior parte dei casi le funzioni sono le medesime quindi è comunque una buona potenza di aspirazione. Si posiziona addirittura un po' sopra rispetto ad altri prodotti alla stessa fascia di prezzo. Dopodiché rimangono le altre caratteristiche che avevo apprezzato del P10 Pro quindi batteria removibile che comunque si trova facilmente anche su Amazon. L'impugnatura è buona e il tasto a grilletto è un pussante on-off quindi una singola pressione permette di accendere un'altra pressione permette di spegnere e questo è molto comodo perché voi quando utilizzate l'aspirapolvere non dovete tenere premuto come avviene per esempio sul Dyson V11 e questo alleggerisce la forza che dovete dare con l'indice, con il dito indice. Dopodiché ci sono le due griglie per espellere l'aria sistema di filtrazione tra l'altro a quattro strati parte dal serbatoio intrappola le particelle fino al 99,97% di PM3 e quindi questo cosa fa? Pulisce ed evita che al contrario di quanto avviene con una scopa tradizionale a setole la polvere venga poi dispersa dall'ambiente viene catturata dal filtro filtro che poi va ovviamente pulito per mantenere le buone prestazioni della scopa elettrica. Nella parte in alto abbiamo un display questa volta non è di forma ovale ma è di forma circolare ha una buona visibilità ed è di tipo touch permette di scegliere tra tre modalità di aspirazione abbiamo la minima, la massima che consuma tanta batteria e la modalità automatica come nel ProSharing P10 Pro anche in questo caso la modalità automatica funziona solamente quando l'aspirapolvere capisce di stare pulendo un tappeto non funziona per esempio c'è un po' di sporco in più o situazioni che necessiterebbero di un po' più di potenza diciamo che ha un'aspirazione media quando capisce che ha a che fare con delle setole di un tappeto va ad aumentare sia la rotazione della spazzola sia la potenza di aspirazione aumentando ovviamente anche il rumore prodotto vi faccio sentire il rumore così in prova live questa qui è la modalità automatica dopodiché abbiamo la modalità minima e questa invece è la modalità massima come potete sentire il rumore prodotto è decisamente elevato molto più elevato rispetto per esempio ad una Xiaomi G10 oppure ad un Dyson V11 è vero che costano un po' di più però diciamo che quando andate ad acquistare un prodotto economico questi sono gli aspetti su cui i produttori ovviamente vanno a risparmiare per contenere il budget display molto bello che indica anche l'autonomia residua c'è l'indicazione della batteria con tre tac che man mano si scaricano ovviamente non c'è la previsione di autonomia residua in tempo reale costa troppo poco dopodiché il serbatoio si può rimuovere si può svuotare agevolmente l'aggancio avviene in questo modo quindi prima agganciate la parte superiore e poi gli fate fare click dopodiché abbiamo il tubo e la spazzola principale spazzola che ha questa funzione lock che per esempio sulle P10 non c'era e che trovo molto interessante non serve per far lasciare per lasciare l'aspirapolvere in verticale perché non è comunque abbastanza stabile però è molto utile quando lo mettiamo sulla base in modo da dare un ulteriore piccolo supporto ad evitare che oscilli dopodiché la spazzola ha due file di setole una un po' più dura le altre un po' più morbide che permettono di raccogliere agevolmente la polvere comunque sono setole abbastanza tradizionali sono messe a spirale non c'è una ricerca per disegnare delle setole che non so come avviene sui Roomba come avviene sui Dyson in grado di aumentare l'efficacia di rascolta della polvere nella parte frontale abbiamo questa piccola attenzione c'è una piccola banda in quello che sembra velluto al tatto porosa che serve per evitare che la parte frontale della scopa sbatta contro mobili e su pellettili e quindi è una piccola attenzione che permette così di pulire e se ci distraiamo andiamo a sbattere non andiamo a rovinare sicuramente i mobili perché questa piccola striscia in velluto va ad attutire sicuramente l'urto dopodiché abbiamo i quattro piccoli led incastonati nella plastica anche in questo caso la luce è sì buona ma non risulta fondamentale le ruote sono in plastica e come nella P10 Pro anche in questo caso sui pavimenti duri scivolano leggermente avrei preferito ci fosse una copertura in silicone in modo da creare più grip la solidità costruttiva è ottima vedete come in realtà la scopa elettrica risulti davvero molto solida e in generale offra una buona qualità ho apprezzato diciamo di più questa che la P10 Pro per un semplice motivo in primis costa di meno perché già al lancio è disponibile con un coupon di 25 euro quindi anziché 199 euro lo andate a pagare 175 euro e in più vi dà la docking station da pavimento che non vi obbliga a dover forare il muro per dover caricare la scopa elettrica e soprattutto vi permette di mettere tutti gli accessori in maniera ordinata una piccola chicca che ho gradito tantissimo perché per esempio nel mio appartamento preferisco adottare una soluzione del genere anziché andare a forare il muro anche perché provando tante scopa elettriche se dovessi forare il muro ogni qualvolta mi arriva una docking station diversa abiterei praticamente in un groviera si comporta comunque molto bene sia sui pavimenti duri sia sui tappeti le tre modalità di pulizia sono più che sufficienti volendo a parte è possibile acquistare un particolare accessorio con tubo flessibile e spazzola dedicata per la toilettatura degli animali vi ricordo però che la spazzola principale non è pensata per l'aspirazione di peli di animale quindi potreste avere qualche problema nonostante in confezione ci sia un piccolo accessorio che consente di rimuovere i peli comunque questi tendono ad attorcigliarsi tantissimo sulla spazzola quindi se avete animali a pelo lungo o comunque capelli lunghi a casa forse vi consiglio di spendere magari qualcosina di più per la Xiaomi G10 che ha una spazzola appositamente fatta per quel contesto dopodiché beh per 175 euro al lancio non possiamo di certo pretendere tantissimo si tratta comunque di una buona soluzione inferiore rispetto ad altre alternative che però ripeto costano di più in questa fascia 50 euro fanno davvero la differenza se andiamo su fasce superiori al momento in cui andate a spendere 400 o 500 euro beh notare le differenze diventa ancora più difficile e addirittura talvolta non ce ne sono su questa fascia qui invece piccole differenze di budget possono portare a grosse variazioni per quanto riguarda la qualità e le prestazioni quindi il consiglio che vi do è quello di valutare attentamente se risparmiare all'osso che potrebbe essere comunque una buona idea nel caso per esempio non abbiate esigenze particolari non abbiate animali e abitate in un appartamento comunque piccolino posso pensare a studenti fuori sede posso pensare a una coppia che si è appena trasferita e magari a altre spese per cui vuole risparmiare sull'acquisto di un elettorio domestico di questo tipo in questo caso allora sì se invece vivete una routine già un po' più stabile tra virgolette e avete esigenze di aspirazione e di affidabilità maggiori allora vi consiglio sicuramente di spendere qualcosina in più per prendere un prodotto di fascia superiore vi lascio comunque il link perché poi questi prodotti vanno spesso in offerta per cui vi consiglio di monitorare il prezzo lo trovate qui sotto in descrizione e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao ciao